Buongiorno, buongiorno signori e signori bentrovati, viaggiatori fantastici. Dame, damigelle, cavalieri, corti, ottesi, speriamo di questo castello e di questo mondo fantastico. Passiamo subito alle presentazioni, chi siete voi, chi sono io? Beh, io sono soltanto una voce, non sono un essere umano, però sono la voce del castello. Un mago che abita qua, molto importante, mi ha insegnato una formula magica con la cosa che appare il primo corpo che mi piace, che mi passa davanti, farlo mio per potervi presentare a voi. E siete i viaggiatori fantastici, che siete la corte del castello, che siete ovviamente i veri protagonisti del fantastico mondo del fantastico, perché senza di voi, noi certo ce la godremmo tra di noi, ma puntini puntini non dico altro. Oggi, signore e signori, sapete che giorno è, giorno di festa, per questa nostra, come dire, un po' malandata repubblica. Ma noi abbiamo intitolato questa giornata in un modo che ci fa ben sperare, perché grazie a tutti questi fanciulli che sono qui con noi, di tutte le età, dai 3 ai 300 anni, specialmente con quelli dai 3, speriamo di trasformare con un po' di tempo a nostra disposizione questa repubblica italiana in una fantastica Italia. Quindi datemi da fare, fate il pieno di energia, di fantasia e di buone idee e propositi qui al castello e poi si vedrà cosa si riesce a combinare nel mondo di tutti i giorni. Quindi, pertanto, godiamoci questa nostra giornata, perché in fondo, in fondo, ma diciamo la verità, come diceva un noto personaggio, italiani, siamo tutti italiani. Allora, anche noi, il 2 giugno, abbiamo la nostra parata, ma ovviamente è una parata fantastica. E allora diamo subito il via alla nostra giornata. Signore e signori, formula magica. Portare il castello, antico portale, apriti e scosta i tuoi battenti. E guardate un po', usciamo con il nostro vessillo portato dalla fanciulla Carven, porta bandiera del fantastico mondo, seguita da uno stuolo di, come dire, di giovani italiani, i nostri domini gialli, con il vessillo nazionale. Questo è il nostro modo di ricordarvi che giorno siamo. Molto bene. Ben provati, benvenuti. Wow. Ma questo è lungo. Voglio proprio vedere. Vediamo, 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 vediamo. E ora, signori e signori, possiamo cominciare a volare sulle aree della fantasia con qualcuno che se ne intende un bel po', perché arriva volando dall'isola che non c'è, al castello che c'è, e come se c'è, lui, l'eterno monedno volante, Peter Pan, inseguito dall'eterno rivale, il capitano Uncino. Wow, Uncino, Duecino, Treccino, va bene, Treccino, quanto ti fai Treccino? Signore e signori, come sapete, sospendiamo qui l'inizio del duello, sempre, perché esso poi andrà proposto ai piedi del castello, a relitto della nave pirata, o è anche voi, sarete compartecipi, come? Scopritelo. Bene, signore e signori, ma voi sapete che il mondo della fantasia è popolato di meravigliose fanciulle che ci fanno tanto sognare. Alcuni le chiamano principesse, ma ce ne sono di vari genere, però resta sempre la prima e la più amata di tutti i luoghi e di tutti i tempi, lei, la principessa Biancaneve, con al braccio il suo azzurro, se vuoi dire azzurrissimo, principe azzurro, che coppia, che coppia, potete ricordare, Biancaneve, carina, bella, come sempre, con queste lucide labbra, le lucide con le vele, vero? E il principe azzurro di giornata è appena stato la parrucchiera e si è rifatto la chioma e sono perplesso, diceva qualcuno, sono un po' perplesso. Allora, signore e signori, Biancaneve, molto chiotta, chiottona, scoprirà una mela stregata qui nel parco, la morderà, nel sonno ipnotico cadrà, steng, chi la risveglierà? C'è che domanda? Il principe azzurro, la conosciamo la storia, ma questo principe azzurro, diciamo così, un po' kitsch, sono stato quasi gettile, la risveglierà, ce la farà? Abbiamo un piano di riserva, un puntato, un puntato, un puntato, un puntato, ho letto tutto di seguito, voi siete il nostro piano di riserva, tutti in fila, bambini, bambine, sono i casi gravissimi, gravissimissimi, i papà per baciare Biancaneve. Nel caso dovessimo arrivare allo sciaculato momento del bacio del papà, vi ricordo che il boschetto di Biancaneve è pieno di sciami, non sono calabroni, non sono vaffataci, non sono vesponi, però sono sciami di scavaccioni, ci siamo capiti? Vabbè, sorgoliamo, signore e signori, la fiaba di Biancaneve, la sua storia non sarebbe neanche incominciata se qualcuno non l'avesse provocata, e chi? Beh, tramava le sue trame dallo scuro e nero castello di pietra, niente, popò, di meno che lei, in persona, la regina Grimilde, la perfida matrigna, che donna, che donna, che donna, che donna strana però, primo, nasconde una strega dentro di sé, secondo, che non mi era ancora normale, parla con gli specchi, ma vi sembra normale, e allora, a lei vi sembra normale, signore e signori, non ci credete, mi faccio specchio e ve lo dimostro, magia, sono uno specchio, buongiorno, ben trovata, guardati qua, rifletti, io, mi son l'etica, signore e signori, la regina Grimilde, una donna che io stimo, non so dire quanto, la sua statura, no, più le centimetri è normale, lo sappiamo, sei la più bella del reame, comunque, sempre, sempre, però per ora, però, però, allora, ho accennato la sua statura, che la è in centimetri, io, quando mi caccio in questi guai semantici, ah, la sua statura morale, c'è fermata pure la musica, ma quale morale, non ce l'ha la morale, ma io, allora, cosa volevo dire, c'era un mio vecchio amico, bellissimo, che diceva sempre questa frase, ti si è impicciata l'imbroglia, ti si è imbrogliata l'impiccia, cioè, quando tu proprio non sai che dire, hai fatto un po' un guaglietto, ma io rifletto, mumble, 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 e lampadina, quello che io intendevo dire, che ammiro la statura del personaggio, applausi per la regina Grimilde, la perfida, e così, abbiamo durato modo, ma anche di tenerla buona per un quarto, allora, o giù di lì, o giù di lì, ora, signori, avete già fatto un giro per il parco, siete stati a un piazzale fantastico, avete visto, parcheggiata lì, una meravigliosa carrozza bianca con cavalli altrettanto palo di dì, ebbene, a ruota, dopo, Biancaneve è giunta, chi non poteva non giugnere, ovviamente, figuriamo se si lasciava la palma della prima più bella, e allora ecco con noi la principessa Cenerentala, con il suo principe consorte, oh, consorte, parola composta, quale sorte? ovviamente,